Tutti i tabù hanno bisogno di essere sviluppati, questo continua purtroppo a essere un tabù, come lo è quello delle madri cattive. Non si può dire che una donna non può avere figli, non si può dire che una donna è cattiva con i propri figli. Questo non è vero, perché la realtà è completamente diversa da quello che tutti noi pensiamo sia giusto. Quindi sono convintissima che sia un argomento fondamentale per la propria coscienza e per una coscienza femminile in generale.